Ciao, nel video di oggi vediamo tre errori da non commettere con il proprio figlio che non nascono tanto dall'esperienza personale perché sto diventando genitore ma non lo sono ancora ma che nascono piuttosto dall'esperienza raccontatami da tutte le famiglie, dalle diverse centinaia di famiglie che seguo ormai dal 2013 ed allora quest'oggi voglio condividere con te questi tre errori appunto da non commettere e da cercare di evitare a tutti i costi il primo errore da non commettere è quello di non viziare troppo tuo figlio o tua figlia cerco di argomentare meglio il discorso del viziare la maggior parte delle famiglie che ho intervistato in questi anni per andare poi a fare loro un'analisi assicurativa mi ha raccontato che a un certo punto dell'età dei loro ragazzi si sono accorti di averli viziati troppo ovvero si sono accorti che tutte le volte fin da quando erano bambini compravano loro magari la maggior parte delle cose dei giocattoli al primo pianto alla prima richiesta senza insegnare al bambino o alla bambina l'importanza dei soldi ecco il fatto di non viziare troppo il proprio figlio è legato più che altro al discorso del far imparare il prima possibile e di solito si parla dell'età tra i 5 e i 10 anni l'importanza dei soldi al bambino facendo imparare l'importanza dei soldi e quindi trasferendo al bambino perché i soldi sono importanti e come questi vadano utilizzati correttamente per non andare poi ad indebitarsi da adulti il bambino si responsabilizza e nel corso del tempo quando poi diventa ragazzo capirà di più un no o comunque il fatto di dover fare dei sacrifici di doversi impegnare per ottenere un qualche cosa piuttosto invece che un bambino al quale fin da quando era piccolino è stato dato e comprato tutto quanto quello che voleva è naturale che le famiglie che danno tanto amore e che regalano tante cose da subito alla prima richiesta ai propri figli non sono cattive famiglie magari sono dei genitori che in passato nella loro infanzia avrebbero voluto e avrebbero avuto piacere di ricevere qualche cosina in più e invece magari per la mancanza delle possibilità economiche non hanno appunto avuto la possibilità ed allora cercano poi diventando genitori di andare a sopperire a quelle mancanze che loro hanno sentito andando a viziare troppo loro figli quindi il primo errore da non fare non è tanto quello di non viziare troppo tuo figlio ma è quello di il prima possibile da quando ha 5 anni spiegagli il valore dei soldi in modo semplice cerca di trasferire a lui o a lei il fatto che con più soldini se si mettono da parte se si fanno dei risparmi si possono poi acquistare delle cose più grandi e fai così percepire e sentire loro la bellezza del magari rinunciare a una piccola cosa oggi per avere invece una grande cosa domani ricordo che quando avevo 6 anni e ho iniziato ad andare alle elementari racconto sempre questa storia mia mamma veniva a prendermi fuori dalla scuola elementare e io avevo dei compagni che avevano delle possibilità economiche più grandi delle mie quindi quando uscivano prendevano sempre il gelato, le patatine, le caramelle, le figurine insomma qualunque cosa loro chiedessero la ottenevano subito o il giorno dopo io ci provavo con mia mamma ma mia mamma non aveva le stesse possibilità economiche quindi non poteva comprarmi tutti i giorni tutte quelle cose anzi alle volte aveva proprio i soldi contati se non addirittura nulla e allora quando avevo circa 6 anni ha iniziato a darmi la mia paghetta in cambio per ricevere quella paghetta dovevo fare dei piccoli lavoretti in casa come magari portare i piatti a tavola insomma delle piccolissime cose che però mi facevano percepire l'importanza del guadagnarmi quei soldi che poi ci tenevo a spendere perché così avevo i miei soldi, il mio gruzzoletto da parte e posso assicurarti che già da bambino quando poi dovevo spendere quei soldini che avevo guadagnato e per i quali avevo dovuto lavorare ci pensavo due volte prima di comprare il gelato e magari il gelato non lo compravo più perché? perché magari volevo comprare poi l'album delle figurine con 5 o 10 pacchetti che all'epoca costavano nulla piuttosto che mangiare gelato tutti i pomeriggi uscito da scuola il secondo errore che mi raccontano le famiglie è quello di aver messo da parte dei soldi e di aver fatto dei sacrifici di essersi impegnati per risparmiare un gruzzolo per i propri figli e di averglieli poi concessi e dati praticamente appena compiuti 18 anni ecco il rimpianto più grande è quello di averglieli dati subito ai 18 anni perché? perché nella maggior parte dei casi poi il ragazzo o la ragazza a 18 anni non è ancora maturo e li ha spesi magari in delle cose non importanti ha comprato subito una macchina magari di grossa cilindrata ha speso più soldi del dovuto nelle vacanze o in alcune feste ha fatto degli investimenti in vestiti e oggetti che poi materialmente magari non gli servivano per il futuro e questi genitori che si erano tanto impegnati nel mettere da parte quei soldi e magari quel gruzzolo era l'unico gruzzolo che erano riusciti a risparmiare per loro figlio hanno visto poi il proprio figlio scialacquarlo anche legato al discorso precedente quindi al discorso di non avergli insegnato l'importanza dei soldi che era il primo errore da non commettere e il secondo è che hanno risparmiato l'oro per lui al posto suo naturalmente ma che non avendogli insegnato l'importanza l'ha portato a questo secondo errore ovvero quello di appena avuto i soldi a 18 anni spenderli in malo modo quindi mi raccomando non fare questo secondo errore di dare subito in mano a un ragazzo o una ragazza 18enne che ancora non è completamente maturo un gruzzolo da spendere terzo ed ultimo errore del quale voglio parlarti quest'oggi è un errore che è più legato a un livello concettuale ovvero all'attenzione che come hai visto i genitori e tutte quante le famiglie danno all'uso dei soldi e all'importanza dei soldi a quello che i soldi possono acquistare ma non ragionano sul fatto che se dovesse capitare loro qualcosa prima che il ragazzo sia autonomo e quindi che il ragazzo il figlio o la figlia possano lavorare e guadagnare in autonomia rischiano però di creare dei problemi economici gravi alla famiglia queste purtroppo sono alcuni casi capitati in qualche famiglia dove sono venuto a conoscenza del fatto che purtroppo questa famiglia non era assicurata in passato per dei gravi infortuni che ha subito magari il marito o ancora per delle malattie che ha subito il marito o che sono venute alla moglie così facendo uno dei due redditi è calato di volto o è venuto completamente a mancare e naturalmente la famiglia è passata da un tenore di vita che magari era medio o medio alto a un tenore di vita molto più basso rispetto a prima hanno dovuto magari vendere la casa al mare o addirittura vendere la casa di proprietà che era molto grande per andare in una casa di proprietà più piccola tutto questo perché si era data molta attenzione in modo positivo naturalmente alla crescita del figlio al fatto di risparmiare dei soldi per il futuro ma non si era data invece attenzione purtroppo a quelle che sono le fondamenta della casa dei rischi che ti metto sempre qui sopra per andare a vedere e quindi a tutti quei rischi legati alla salute che nel momento in cui si verificano purtroppo facendo gli scongiuri del caso vanno a rovinare la situazione economica di una o più persone quindi il terzo errore da non commettere è quello di vivere troppo nel domani e di non vivere invece nell'oggi di non ragionare su l'importanza di proteggerti e tutelarti ad oggi se realmente vuoi continuare a creare il tuo domani e quello della tua famiglia e per tuo figlio naturalmente come sai io sono sempre a tua disposizione se ancora non ti sei iscritto o registrato al mio canale youtube puoi farlo qui sotto attivando la campanellina e se invece vuoi farmi altre domande o hai piacere di richiedere la tua analisi personalizzata vita protetta senza sorprese per ricevere il tuo report della tua situazione attuale e come e se eventualmente andare a risolvere quella situazione trovi qui sotto in descrizione il link per potermi contattare e io sarò ben lieto di prendere un appuntamento con te per oggi è tutto non mi resta che salutarti e come sempre darti appuntamento al prossimo video ciao